Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.